Da ieri sera fino alle prime ore di questa mattina, uomini e mezzi della provincia di Pesaro e Urbino e delle ditte incaricate sono stati impegnati più volte per trattamenti antighiaccio su tutte le strade provinciali. In alcuni casi, deboli nevicate nella prima mattinata hanno reso necessario ripetere il lavoro svolto per evitare i disagi alla circolazione. Sono stati 39 i mezzi impegnati durante la notte e nella prima mattinata sia per trattamenti antighiaccio che per sgombero neve, in quest'ultimo caso in particolare sulla strada provinciale 16 Orcianense, sulla strada provinciale 92 Cerbara, sulla 154 Grazie Ponterio, la 123 San Costanzo, la 17 Mondolfo, la 49 Cavallara, la 58 Petriano Scotaneto, la strada provinciale 57 Sant'Angelo Monte Felcino, la 68 Monte Guiduccio. Molti invece i video e le foto arrivate alla nostra redazione nella pagina Reporter di strada, nel quale sono stati immortalati alcuni scorci imbiancati dell'entroterra come questo video girato a Fossombrone.